Avevo pensato di fabbricarvi con le mie mani proprio da me un burattino di legno. Pinocchio, dai di qualcosa. Babbo! Veniatevi! Mi ha dato un figlio! Così, da un giorno all'altro? Un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Guarda Pinocchio, guarda. Uno e due. Se fai come me, fra due o tre giorni, già puoi camminare da s... Pinocchio! Un burattino come noi. Tu chi sei? Pinocchio. Ascoli! Lo seminiamo, nasce una piantina. Stragomma, di zecchino. Sono stato derubato! E che è che non è il prigione! Oh, è il prigione! Che sta succedendo, nasce? Shhh! No! 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 Perché sei grande. È un segreto. Io non voglio essere un burattino. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri! Grazie a tutti.